Una manifestazione che torna dopo l'ottimo riscontro di presenze registrato lo scorso anno, quest'anno con quali eventi in programma? Quest'anno diciamo che gli eventi che abbiamo programmato rispecchiano quelli che avevamo fatto l'anno scorso, ci saranno delle novità sul lato musicale che di sera ci saranno vari gruppi che si esibiranno nella serata. Inoltre assaggi di etichette nazionali, internazionali e degustazioni di prodotti tipi? Ci sono varie birre nazionali e internazionali, ci sono la degustazione di pietanze come Wuster e Krauti, abbiamo pure fatto la bistecca con la marchigiana che è un piatto prelibato che avevamo già fatto nella precedente edizione. La seconda edizione sicuramente è un grosso successo che speriamo di avere anche quest'anno, quindi invito tutti a partecipare, si potranno degustare i prodotti tipici, salsicce, rosticini e logicamente bere birre nazionali e internazionali. Quindi è un'iniziativa molto importante, come diceva ne abbiamo fatte tante, questa diciamo è l'ultima e speriamo che avremo un grosso successo. I stand saranno aperti tutte le sere a partire dalle 19? Sì, a partire 19 e anche in caso di pioggia perché ci sono dei tendoni.